Salve ragazzi, ritorniamo con un nuovo episodio di Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, stavolta l'ho detto giusto cazzo Continuiamo la nostra avventura con il ruggito delle 10 code, quindi andiamo via Noi come sempre ci sentiamo dopo il filmato That's the Ten-Tales I thought the statue's bad chakra disappeared It has no emotions or ideas It's the very embodiment of the nature energy that flows through the world I intended to capture them by the time the Ten-Tales was resurrected But they are stronger than I expected Hm Look out, it's kicking off Naruto, Oren Kakashi and Gai Ok Listen up, first you need to keep away and watch it Coordinate your attacks with how it moves to do as much damage as possible It's the whole Not the same It's the same To hear a wolfos How about hearing a wolfos And saying What's happening Here can we explain Here can we change the ship From here we can change the ship And this is the ship To talk about it To talk about the being You don't know It's a much You don't know And no You don't know You don't know You don't really know Ancora, questo è il tuo primo e ultimo scelto. Non è possibile, ma non è possibile, che non è possibile, ma non è possibile, ma non è possibile. Lo so, posso finire questo, come una volta? Mamma mia! Mamma mia! Pucca! Pucca! Por que você não pode ver isso? Não importa o quanto você luta, é hora que você percebe que nesse mundo não há esperança! O que acontece? Pucca! Mamma mia! Pucca! 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 Tábica! Ma che cazzo si fa lanciare la sfera? Aia! Cadroia! Uh! Aiaiaia, spostati! Che è successo? Vai Kurama! Vai vedere chi sei, vai Kurama, vai Kurama! Mamma mia, sto preferendo me scelci in una maniera assurda! Qua c'è, qua c'è, qua c'è, qua c'è, qua c'è! Quick time, quick time! Oh mamma! Prima che ti raggiunga! Porca troia! Non mi aspettavo sta cosa! Merda! Aia! Eh vabbè cazzo però! Eh vabbè! Porca cazzo, io me la sto vedendo brutta! Cazzo, gli scosse! Che succede? Oh mamma! Cazzo, io odio! Oh merda! Kurama non fa più prendersi! Prova più kurama! Merda! Corri kurama, corri, 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 corri! Blockato! Vai Kurama! Oh c'è anche killer di! Cazzo, ho sbagliato! Mamma mia! Finchia, l'ho bombardato dall'interno! Vai! È finita la forma del cerco serio E mo' so cazzi! Stop, Naruto! Shadow clones are useless now! You're all just a bunch of headless chickens! Uh! I rinforzi! Force! Eh dai, mi manca una stella! Oh cazzo! Perchè sti quick time sempre all'improvviso? Non lo posso sprofondare. Mamma mia. Quando dovrebbe spuntare il fattore segreto? Oh, quant'è X? Mamma mia. Vai con Jake, vai con Jake, hai la massima potenza. Mamma mia. Che energia, che potenza. B, eh vabbè. Che cosa incredibile. Ho i brividi pure io. Ma loro sono ancora vivi. Non credo sia sufficiente per finire questo, do you? Sembrava troppo bello. E' indistruttibile sta stato. Ah, ha cambiato forma. Si è trasformato. O-oh. Dove andrà a colpire? O-oh. 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 la strategia di combattamento. Ora, cosa prossima? Continuiamo. Continuiamo mostrando loro la risposta. In dettagli minuti. Stile wood! Cutting Sprigg's Jutsu! C'è... c'è troppo! C'è cosa possiamo fare? Oh, God! Non! Stop! Non è neggi. Medici! Non! È troppo tardi! Neji, non! Naruto... Sai... ... che la Lady Hinata... ... morirà per te. Cosa significa... ... che tua vita è parte... ... di una foto più grande. Penso... ... che mia vita... ... è parte... ... di quella foto, anche. ... di te. Cosa? Cosa tu? Cosa tu? Cosa tu? Cosa tu? Cosa tu... Dicevo che io ero un genio. Neji! Neji! Come on, Neji! Non ti dimenticare su noi! Neji! Neji! Questo non può essere! Pensavo che nessuno sarebbe a matare i tuoi amici. Sono senza parole. Non pensavo che Neji si sacrificasse per Naruto. Questo va a succedere di nuovo e di nuovo. Tutte le cose che hai detto casualmente, tutti i tuoi ideali, saranno diventate lievi. Cosa ha avuto in questa realtà, Naruto? Ma chi ha detto che dovessi vivere in realtà? Allora veniva da nostra parte già. Allora... 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 E' quello che ci rende amici. Ma se noi perderemo su questo ideale ora, tutto che Neji ha fatto dovrebbe essere in vaina. E' quello che significa veramente di lasciare un amico morire. Quindi vieni. Stai forte con me, Nardo. Stai forte e non rompe la tua parola. Non nemmeno. E' il mio modo ninja. Lo saprei. Non è solo la mamma e la papà. Non sono solo soli! Inata, grazie. È tutto grazie a te che stai con me. Ok, è sufficiente. Guarda questo. Inata. Ok. Cosa è? Cosa è? Cacera di Cacera. No, no, no. Questo piccolo Brad può passare le Cacera di Cacera di Cacera. Non è come se può cambiare qualcosa. Shadow Clone Jutsu! Non è come se può cambiare. Non è come se può cambiare. Non è come se può cambiare le Cacera di Cacera di Cacera di Cacera. Non è più una cosa che vuoi. Non è un'unico ma un'unico. Mamma mia le musiche Ogni volta mi aspetto quick time in ogni momento Non vuoi te, non voglio rompere i bondi che ho portato con i miei amici E non voglio quelli rompere Tu davvero è un figlio Se considerate il dolore dei nostri amici di essere i bondi E qual è il uso di proteggere loro? Huh? Quinti cercare di essere un figlio Quando si tratta di miei amici, mi sono preparato per avere un tipo di dolore Non ne vado a perdere Sì, magari è semplice Ma cosa che mi ha scoperto È se miei amici non erano qui con me Periodo So, qual è il tuo punto? Huh? I commend you for pulling us down You did well It doesn't change anything in the end Just makes things trickier The one and only bond between myself and the Tentails has been broken It's out of control now Ok, time to finish that thing Ah, I see you had the same idea as me Naruto, hold the fort here Kagashi-sensei! Yes, this is where you finally begin Mamma mia Mamma mia Ok, B Vabbè, meglio di niente Strade diverse È un trofeo, strade diverse Purtroppo non si vedono Oh, continua Ora puoi accedere Anteprima al prossimo capitolo Ok, allora Un minuto Andiamo avanti Dai, vediamolo The time has come For the sake of the ninja world Some fight with their allies For the sake of the ninja world Some run together through darkness While two men gaze at the future In the next chapter The United Front Sakura, Sasuke Let's go Ok Got it Mamma mia Da non perdere Quindi, vediamo un po' Oh, continua Va bene raga Al prossimo episodio Ciao ciao